Buongiorno da mattino 6 per questo venerdì 21 aprile, oggi si ricorda Sant'Anselmo andiamo a vedere i titoli di apertura iniziamo dalle pagine del centro nelle cronache della provincia di Pescara mare stagione al via con tre divieti da maggio niente bagni in via Galilei via Balilla e Fosso Valle Lunga a centropagina vitalizi e altri privilegi in pensione a 34 anni io ci sono riuscito nelle cronache code a Equitalia per cancellare vecchie sanzioni ancora Pescara a Riviera Nord ipotesi semafori agli incroci all'interno Washington Gentiloni vede Trump amicizia a Stati Uniti Italia codici appalti e scontro sui poteri di Cantone e poi lo sport Pescara anzi Pescara 80 aziende collegate al progetto subito al lavoro dopo la scuola presentati nuovi corsi degli istituti tecnici superiori senza storica il cellulare sentenza storica il cellulare causa il cancro Inail paghi la pensione di taglio alto spari sugli chancelise terrorismo a Parigi ucciso poliziotto due feriti e poi sempre sulle pagine del centro cronache della provincia di Chieti Paolucci 11 milioni al Renzetti la regione finanzia Lanciano e Chieti dice no al nuovo ospedale nelle cronache vasto banditi armati assaltano l'Eurospin a tessa auto a riete sfonda la vetrina del Tigotà cronache della provincia di Teramo Brucchi pronto a lasciare subito il sindaco non ha più i numeri entro 24 ore decide se dimettersi nelle cronache in centro a Teramo cerca di sedare una zuffa e viene ferito per una frana cede un ponte chiusa strada a Civitella cronache della provincia di L'Aquila tornano i negozi nella città rinata l'Aquila la Confcommercio entro due anni in centro 250 attività e poi Celano in tantissimi per il commosso addio a Lucia Sulmona errori reparto licenziati dalla Marelli le pagine del messaggero dedicate all'Abruzzo licenziato in tronco sviene alla Magneti Marelli di Sulmona finisce all'ospedale un capoturno di 53 anni ho dato tutto per questa azienda mi cacciano per un danno davvero irrisorio il mare di Pescara la stagione si apre con tre divieti giornalisti eletto un abruzzese al vertice nazionale Nicola Marini è il nuovo presidente dell'ordine pallotta dell'ordine dei giornalisti d'Abruzzo dice risultato straordinario e poi la sanità nuovi ospedali dai privati meno soldi di spalla sterilizzati tre orsi provenienti dall'Albania di taglio alto l'Aquila il centrodestra con Biondi torna unito dopo 15 anni Pescara le menze scolastiche il comune sarà parte civile contro la ditta lo sport il calcio la serie A capraria i saluti Pescara tornerà i grande con Zeman titoli di apertura del quotidiano la città Brucchino ha più maggioranza il consiglio approva i due provvedimenti responsabili poi il sindaco va sotto con i numeri e poi il ponte calato Civitella del Tronto il ponte sulla comunale di Favale ha ceduto Vasanella smuove il centrodestra Giulianova lanciato il tentativo di ricompattamento di spalla Tommaso Ginobili dichiara il dato mai dato l'ok al patto dei veleni con i sottanelliani al rosetto degli abruzzi nuovo porto entro la fine dell'anno e poi casa dello studente senza un assist dalla regione i fondi per l'edilizia studentesca a Chieti Pescara Rocca Santa Maria truffa dei muli condannato figlio dell'ex sindaco vediamo ora i titoli di apertura dei quotidiani nazionali iniziamo dalle pagine del Corriere della Sera l'attacco a Parigi terrore sul voto ucciso un agente due feriti gravi evacuati gli chancellise figlion dice sospendere la campagna l'emergenza ha morto il killer schedato perché radicalizzato islamico caccia i complici e la rivendicazione dell'isis e poi il vertice trump vede gentiloni forti contro il jihad e italia alleato chiave la repubblica titola a Parigi il terrore isis sul voto attacco alla polizia sui chancellisei morti un agente e un assalitore caccia un complice campagna elettorale sconvolta trump a gentiloni lotta la jihad ma nessun ruolo usa in libia il messaggero terrore sulle elezioni francesi attacco jihadista sui chancellisei a Parigi a tre giorni dalle urne morto un agente due feriti ucciso l'assalitore era noto ai servizi l'ultimo post voglio uccidere poliziotti e l'isis rivendica incontro a washington trump e gentiloni stati uniti e italia uniti per sconfiggere la minaccia del califo ancora il fatto quotidiano Parigi attacco contro i poliziotti a terrorismo incubo elezioni chancellisei colpi di kalashnikov uccisi un agente e un assalitore un altro in fuga appalti a un governo a sua insaputa scarica cantone poi si pente gentiloni orlando tolgono poteri all'anac e si smentiscono subito dopo e poi zagrebelschi la proposta antinciucio movimento 5 stelle chieda prima del voto un'alleanza su pochi punti libero il telefonino causa il tumore sentenza del tribunale di ivrea risarcito un lavoratore costretto a usare il cellulare per diverse ore al giorno per il magistrato è sicuro il legame tra cancro e onde elettromagnetiche ma l'organizzazione mondiale della sanità non pensa così nesso causale possibile non certo padoan ministro esattore il signor tasse non sa più che granchio prendere la stampa attacco a parigi paura sul voto sui chancellisei raffiche di kalashnikov contro i poliziotti un morto e due feriti domenica il primo turno delle elezioni l'attentatore ucciso era conosciuto dagli 007 l'isis rivendica il blitz il vertice a washington gentiloni vede trump c'è l'intesa su irac e libia un giudice dice malato per colpa del cellulare ivrea prima sentenza che crea un collegamento col tumore ma la scienza non ha raggiunto risultati certi il tempo dice cantonate ana che il governo prima ridimensione il pm stare poi ci ripensa il senato telenovela finita ok dell'aula alle dimissioni di minzolini l'avvenire mortale confusione primo sia la legge sulle dichiarazioni anticipate tra forzature ambiguità e rischi di contenzioso e poi il sangue sulle presidenziali attentato agli champs elisee il manifesto titola spari sul voto alla vigilia delle presidenziali gli spari a parigi sugli champs elisee morto un agente e due feriti gravi ucciso l'attentatore per il governo l'obiettivo era la polizia e la procura di parigi non esclude il terrorismo l'attacco con le tv aperte sulla diretta con gli 11 candidati il mattino attacco a parigi terrore sul voto gli spari sugli champs elisee morti un agente e l'assalitore e poi cellulari la sentenza shock l'uso eccessivo e scorretto causa il tumore l'ina il dovrà risarcire un dipendente cantoni il giallo dei poteri ridotti gentiloni lo rassicura rimedieremo il secolo decimo nono titola parigi sangue terrore il blitz spari contro la polizia sui champs elisee un morto e due feriti le indagini ucciso l'attentatore era noto agli 007 rivendicazione dell'isis e poi la manovrina rincarano le sigarette conti pubblici raddoppia la tassazione delle vincite al gioco tolti i poteri a cantone sulle gare d'appalto e poi il governo si corregge l'unità titola democrazia prescritta il reato di compravendita berlusconi di senatori per far cadere un governo liberamente eletto dai cittadini prodi è stato dichiarato estinto per prescrizione e poi le prime immagini della ex miss italia jessica dopo la violenza si fa vedere in tv a testa alta la verità titola li vedete questi due signori ci riempono di immigrati il governo scopre la regia degli sbarchi iconi o gica trambrone gestiscono una hollus basata a malta in tre anni ci hanno portato 33 mila stranieri e adesso indagano ipm iniziamo a sfogliare le pagine del quotidiano il centro in apertura vitalizi e altri privilegi e scontro sui costi della politica il movimento 5 stelle accusa dal pd solo parole la proposta di tagli dei del dem pietrucci scatena l'ira della marcozzi soliti annunci elettorali bloccate tutte le nostre iniziative a replicare da alessandro da voi non accettiamo lezioni sarà marcozzi ha dichiarato ad ogni vigilia elettorale il pd avverte la necessità di dire qualcosa di sinistra peccato che si limiti sempre agli annunci senza passare i fatti poi la replica di camillo d'alessandro la marcozzi non può dare lezioni il più grande taglio ai costi della politica e l'abolizione dei vitalizi portano il mio nome e poi la previdenza di lusso abruzzo le pensioni degli ex ci costano 4 milioni all'anno è la cifra sborsata nel 2016 dalla regione per pagare assegni diretti e di reversibilità a del colle novello e tagliente l'importo massimo erogato di 60.102 euro l'ordi l'anno per il 2017 la spesa si preannuncia in linea con quella dell'anno scorso i trattamenti pensionistici a marzo comprendono 109 trattamenti diretti e 45 ai familiari superstiti e poi c'è chi raddoppia grazie al miracolo del cumulo ex consiglieri ed ex parlamentari da del turco alla nenna ecco i politici abruzzesi che incassano il doppio assegno vitalizi e altri privilegi ancora a metà della vita in pensione il record di baby franco crecchio di ludovico a 68 anni a 34 il primo assegno previdenziale ho voluto cambiare professione avendo però le spalle coperte ho pensato che non mi sarebbe mai più capitata un'occasione del genere allora mi sono detto non sono scemo e non voglio essere chiamato scemo per tutta la vita ho nove anni di contributi come dipendente pubblico precedentemente ho versato per 11 anni da coltivatore diretto e poi ho pagato per il ricongiungimento e ora mi sto mi sto godendo la mia terza vita quella davvero pensionato ho ritrovato vecchi amici e compagni di scuola e posso dire che sto facendo una bellissima vecchiaia di taglio basso ma con la riforma con la riforma fornero addio anzianità gli interventi legislativi dal 1995 al 2011 hanno alzato la sticella dei requisiti fino ad abolire le quote e poi di spalla la storia così nacque la norma per 400 mila fortunati il terrorismo in europa l'attacco a parigi ucciso un poliziotto a 48 ore dal voto assalto a colpi di kalashnikov sugli champs elisei contro agenti due gravi morto il killer e uno in fuga e poi stati uniti italia gentiloni da trump amici e alleati contro il terrore la russia al bando i testimoni di geova la corte suprema vieta l'attività del gruppo religioso definendolo estremista sequestrati i beni per i diritti civili via libera al biotestamento la battaglia passa al senato si della camera grazie all'inedita maggioranza pd movimento 5 stelle si e mdp contro lega e forza italia insorgono i deputati cattolici malati si faranno morire di fame e di sete e poi cinque articoli per il fine vita le volontà sono sempre irrevocabili ci si dovrà rivolgere a un pubblico ufficiale ai camici bianchi che rifiuteranno di staccare la spina viene garantito il diritto all'obiezione di coscienza al loro posto dovrà intervenire un secondo medico stop ai capilista bloccati la legge elettorale il pd presenta una nuova proposta ancora politica lo scontro dal governo lo schiaffa cantone di mezzati poteri dell'anticorruzione poi retromarcia di gentiloni è stato un errore e rimedieremo la salute sentenza storica usare troppo il cellulare può provocare il cancro il tribunale di ivrea riconosce il rapporto causa effetto se l'utilizzo improprio elina il condanna pagare condannata a pagare la pensione al dipendente di una società telefonica e poi parlare a parlare anche l'esperto dice ma oggi non c'è prova scientifica il neurochirurgo olivi dice l'uso dei telefonini è esploso ma tumori non crescono la polemica unione europea contro chi dice no ai vaccini il commissario per la salute dice vergognatevi morbillo in aumento semina di cannabis ai piedi del pirellone i radicali all'attacco a milano iniziativa di cappato e soldo per la legalizzazione sponda del sindaco sala che dice sono disponibile al dialogo apriamo la pagina sulla nostra regione istruzione orientamento al lavoro dopo la scuola i nuovi corsi professionali agli ts per i diplomati il 90 per cento degli iscritti trova subito posto la regione pronta a scommetterci e ha investito un milione di euro che si aggiunge ai 12 milioni del ministero ripartiti tra i quattro istituti dislocati nelle province 80 le aziende collegate al percorso presso le quali è possibile svolgere gli stagi in base a una precisa domanda di mercato sulle qualifiche specializzate e allora ieri è stato presentato agli studenti quelli che sono i quattro indirizzi degli istituti superiori tecnici a parlare c'era anche l'assessore regionale all'istruzione che ha spiegato un nuovo percorso che passa proprio all'interno delle aziende vediamo formazione sbocchi lavorativi per i giovanissimi in cerca di indirizzo scolastico la regione abruzzo presenta i quattro indirizzi creati per alternare studio e pratica in accordo con aziende del territorio un modo per formare professionalità necessarie sin da subito e richieste dagli imprenditori abruzzesi settori che rappresentano economicamente il segno più e che lasciano spazio alla crescita futura la regione investe negli istituti tecnici superiori quindi negli itse un milione di euro in abruzzo ce ne sono quattro e sono quello ci sono gli itse c'è l'its della moda l'its dell'agro alimentare l'its dell'energia rinnovabile l'its della meccatronica perché funziona l'its perché la formazione è fatta insieme ma gli imprenditori che quindi chiedono chiedono appunto di formare i ragazzi a seconda delle esigenze dell'impresa ecco perché poi il circuito si conclude positivamente perché poi sono gli imprenditori stessi molto spesso che prendono i ragazzi a lavorare nelle nostre imprese perché li seguono fin dall'inizio nella formazione l'italia il made in italy è riconoscibile per la moda in questo caso qual è il percorso che viene garantito ai ragazzi beh con l'its moda viene garantito un percorso cioè una serie di percorsi che portano a un'elevata possibilità di essere assunti di trovare lavoro quindi l'occupabilità diciamo che in base a dei delle statistiche che sono state fatte anche dal ministero della pubblica istruzione l'80 per cento dei diplomati che escono da questi istituti hanno possibilità appunto dell'80 per cento in media di trovare lavoro l'istituto tecnico superiore della moda di pescara sta portando avanti due corsi uno finalizzato soprattutto alla modellazione quindi alla progettazione del prodotto moda l'altro corso si occupa sempre prodotto moda ma marketing e comunicazione di questo prodotto quindi l'una si svolge nei laboratori nella progettazione nel mette a disposizione soprattutto la creatività e l'altra si è un lavoro più che altro non dico d'ufficio perché sempre prodotto moda è però si occupa appunto della comunicazione e quindi noi mettiamo a disposizione quegli strumenti. Ancora sulle pagine del centro un allarme lo lancia il papà di Noemi Sciarretta che rimane disoccupato dice genitore della bimba malata ho chiesto aiuto ma ho raccolto solo buoni propositi. E poi il concorso per 36 assunzioni via libera al bando delle 3.300 domande il tar dell'aquila respinge il ricorso degli ex cocco nessun pregiudizio e nessun diritto di precedenza. Nella manovra a 68 articoli c'è lo stadio della Roma pronto il decreto dopo le ultime limature stangata sui giochi e sulle sigarette ciambella di salvataggio per all'italia assunzioni nei comuni ma solo a termine. E poi a Pescara le tasse da rottamare in fila per ora a Equitalia sono 280 mila le domande. Oggi ultimo giorno per richiedere la cancellazione di interessi e sanzioni. E poi pensionati al lavoro davanti alle scuole aboliti voucher addio ai nonni vigile. Il servizio alla municipale CGL e CISL dicono un uso distorto dei buoni. E poi parla uno degli anziani rimasti a casa era bello impegnarsi per i bimbi per molti di noi quei soldi erano preziosi. Il caso beffa doppia beffa multa mai presa ma pagata per due volte sempre sulle croniche di Pescara. Progetti per il traffico Riviera e via Carducci con i semafori. La proposta di Antonelli di Forza Italia che dichiara così si riducono le code civitarese dice ipotesi da verificare ma sono allo studio altre soluzioni. Il via libera alla demolizione di Villa Agresti. Il comune recepisce la sentenza del Consiglio di Stato che consente all'impresa trave di costruire. E poi ieri nel corso del Consiglio comunale l'ite di Pillo Sabatini 5 stelle separati in casa lo scontro dopo l'esame di una mozione. Consiglio comunale a porte chiuse sul caso delle mense. Il controllo dell'arte il mare non è balneabile fino a via Galilei. Le ultime analisi indicano un peggioramento dell'inquinamento a nord. Il sindaco vieta i tuffi su 800 metri di litorale. E poi terminate le prove di tradizione sia il taglio di 7 alberi altri 12 si salvano. Fondazione Pescara Abruzzo un patrimonio di 204 milioni approvato il bilancio 2016 l'istituto di origine bancaria al primo posto nel sud Italia finanziati 170 progetti dal cinema al design dall'arte ai temi dell'integrazione. presidente e segretario generale Damiani e Mattoscio dicono una gestione rigorosa. Negozi senza luce la protesta in centro condomini bloccati nell'ascensore condomini bloccati nell'ascensore in piazza Marti ripennesi commercianti furiosi e l'Enel rassicura il problema è risolto. Oggi al Media Museum un saggio e 800 libri regalo alla città di Giulio Rapposelli. A Porta Nuova un cane prigioniero l'esposto dei vicini e dopo la lettera alla padrona si sono rivolti ai vigili urbani. Piazza Sacro Cuore domani presidio per il giornalista bloccato in Turchia Gabriele Del Grande. Capitani d'azienda o stilisti di moda i sogni degli studenti al Flaiano il primo incontro di orientamento per 200 ragazzi degli istituti tecnici ma vogliamo trovare lavoro subito come abbiamo ascoltato nel nostro servizio. E poi la sentenza provincia un milione agli ex precari ma la Corte d'Appello riconosce solo la metà delle mensilità. A Montesilvano non c'è accordo sul bilancio 2017, una trattativa in salita. Oggi si torna in Consiglio Comunale dopo tre ore di confronto tra Maragno e Ribelli. Intesa lontana, suggiunta e migranti. Una crisi per la maggioranza di centrodestra. E poi il sindaco firma l'ordinanza. Case troppo fredde e termosifoni accesi fino a domani. Ancora su Montesilvano bimbi in viaggi tra stelle e galassie. Un giorno d'astronauta in 3D a Porto Allegro da domani fino al 4 giugno. Articolo 1. Uno spettacolo indegno. Lo stop di personalismi e spartizioni. Abbiamo assistito a uno spettacolo indegno di una comunità civile democratica. Così i rappresentanti del neocomitato montesilvanese di articolo 1. Il movimento democratico e progressista commentano la prima giornata di discussione del bilancio di previsione 2017. Un piano per limitare il rischio delle frane in via Colle Portone. Montesilvano i primi interventi di messa in sicurezza. Lo smottamento a gennaio ha provocato gravi danni. A Città Sant'Angelo il comitato via dice sì al centro fanghi della ditta Nicolai. E poi lo spolturo nelle scuole con il FAI. Domani la visita guidata a San Panfilo negli alunni dell'istituto comprensivo. Ancora su Montesilvano domani la presentazione il risveglio di Bruno, il nuovo libro di Di Camillo. Riapre domani la biblioteca comunale a spoltore appuntamento per la giornata mondiale del libro. Attività culturali da lunedì al venerdì. A Francavilla Luciani il sindaco presenta 1700 firme per far abbattere Palazzo Sirena. Il comune tenta di far rimuovere il vincolo imposto sull'edificio e è stata presentata una memoria alla soprintendenza delle belle arti di Chieti. E poi Mantini ha dichiarato pressioni irrituali. Il sindaco sta sbagliando. A San Giovanni Teatino le multe con Rosso ora rischia il bilancio. La sentenza del giudice di pace può innescare numerosi ricorsi. Lunedì consiglio. Popoli nuovo asfalto e videosorveglianza partono gli appalti. La Giunta Galli si appresta a deliberare i progetti esecutivi per diverse strade del centro. Lavori per 300 mila euro. Per Brioni è cominciata l'era di Malverdi. Il nuovo manager operativo da martedì da Dazio della Cisla dice ci aspettiamo di uscire da una lunga crisi. A Torre dei Passi ritorna alla corsa della memoria. Domenica la gara podistica per le vittime del sisma Aquilano. La pagina dedicata alle cronache di Chieti. Il futuro della sanità pubblica Paolucci. 11 milioni per Lanciano. La Regione finanzi e Renzetti. Da Chieti invece arriva il no di sinistra. Movimento 5 Stelle e Forza Italia al nuovo ospedale voluto da D'Alfonso. E poi crediti per le aziende con zero interessi. Scambio di beni e servizi. Con fartigianato e CNA entrano nel circuito Abrex creato da Dottavio. All'Aquila sul Mona si infiamma la vertenza licenziato per l'errore di un operaio. Caporeparto della Magneti Marelli messo alla porta per non aver scartato due pezzi di telaio difettosi. E a casa va anche un interinale. Fegatelli della fiomma attacca l'azienda e non esclude iniziative di protesta. Noi stiamo con i lavoratori. L'avvocato Margiotta dice questo provvedimento è di certo sproporzionato. Attività in centro tante richieste cioni di confcommercio tra negozi e studi si prevedono 250 aperture nei prossimi due anni. Casello di Assergi precipita dal viadotto in A24 salvato dalla polizia stradale. Un uomo di 46 anni ha tentato il suicidio gettandosi dal viadotto Costa del Molino dell'autostrada. dopo il casello di Assergi in direzione dell'Aquila salvandosi miracolosamente nonostante la caduta perché rintracciato da una pattuglia della polizia stradale. Andiamo a Teramo. La crisi in comune Brucchi è pronto a staccare la spina. Il sindaco si è dato 24 ore. Già oggi potrebbe dimettersi e poi avrebbe 20 giorni per provare a rimescolare le carte. Il consiglio di ieri ha confermato che i numeri non ci sono più. Sia i dissidenti che l'opposizione parlano di esperienze concluse. 5 stelle annunciano la mozione di sfiducia. Come detto ieri consiglio comunale a Teramo e allora abbiamo sentito quelli che erano gli umori tra maggioranza e opposizione. Nel servizio di Tania Bonici Castelli. Vediamo. Si diceva fosse il giorno della verità per l'amministrazione comunale di Teramo. La verità è che il sindaco Brucchi non ha più i numeri per andare avanti e il consiglio di oggi lo ha reso evidente. La maggioranza può contare solo su 15 voti dei 17 necessari. Una conta che viene fatta per il primo punto all'ordine del giorno sulla surroga dei tre nuovi consiglieri che vanno a sostituire i tre nuovi assessori. Subito dopo opposizione dissidenti hanno assicurato il numero legale per permettere solo l'approvazione dei due successivi atti amministrativi. La variante urbanistica per la realizzazione della casa dello studente e la rottamazione delle cartelle sattoriali. Un modo per dire su queste decisioni ci siamo per le prossime non contate più su di noi. Ma come si è arrivati a questa emorragia dalla maggioranza di centrodestra da parte di sei consiglieri fedelissimi al modello Teramo di Chiodi, Gatti e di Dalmazio? Perché non siete entrati e non avete votato la surroga dei tre nuovi consiglieri voi della lista civica? Ma guardi per due motivi. Uno è politico e uno è tecnico. Politico perché per noi la giunta è un mezzo per raggiungere gli obiettivi politici della maggioranza, per raggiungere gli obiettivi prefissati in un programma politico. Invece questi l'hanno trasformato in un fine, il quale fine deve essere solo esclusivamente quello di mantenere gli equilibri politici e mantenere la maggioranza. Ma stiamo vedendo tutti che fine sta facendo la città. Voi non vi sentite più di restare in maggioranza? Ma a queste condizioni assolutamente no. Non vediamo una prospettiva, non vediamo un programma. Vediamo solo, infatti questa consigliatura sarà ricordata per i numerosi rimpasti che sono stati fatti per mantenere il potere. Voi non considerate un vero male l'arrivo di un commissario allora? Ma a queste condizioni perché deve essere un male? Non è che le cose cambiano molto perché la politica nel momento in cui non lavora su un programma cosa fa? Solo un fatto amministrativo. I dissidenti chiedono a Brucchi di azzerare la nuova giunta a nove e ricostituire una squadra diversa e più snella. Il sindaco ha già detto di no ad ulteriori rimpasti. In fondo con questo ultimo consiglio porta a casa l'approvazione di due deliberi importanti, il che gli dà tempo per riflettere se dimettersi o continuare. Ancora sulle cronache della provincia di Teramo a Civitella, ponte danneggiato da una frana, struttura a rischio per un cedimento, chiusa la strada che collega le frazioni di Lucignano e Favale. Ci fermiamo per una piccola pausa, spazio alle previsioni di Luca Mennella. Tra poco. Seconda parte della nostra rassegna stampa ora ci spostiamo sulle pagine del quotidiano Il Messaggero. In apertura nuovi ospedali meno soldi dai privati. La regione ha deliberato il rafforzamento dell'intervento statale grazie all'ultimo stanziamento che ammonta a 42 milioni di euro. L'assessore Paolucci dice dei 228 milioni dell'ex articolo 20 circa 143 verranno usati subito per gli altri. Attendiamo Teramo. E poi la manifestazione salute i sindacati in piazza a Pescara sabato prossimo. De Fani se il processo altri testimoni lo accusano in aula è immerso lo stretto legame tra l'ex assessore regionale alla cultura e l'associazione Abruzzo Antico. E poi la protesta magistrati onorari in sciopero un esercito di professionisti fanno lo stesso lavoro dei togati con la differenza che non hanno tutele. Per le nomine giornalisti abruzzese al vertice nazionale. E poi a Pescara menze scolastiche comune parte civile contro la ditta. Duro confronto a porte chiuse in consiglio comunale su mozione della Sabatini del Movimento 5 Stelle. Le incognite sul servizio. Alessandrini dribbla la discussione in aula e nel pomeriggio fa provare la decisione in giunta con una delibera. Sulla questione pesa la condanna di dirigente funzionario ad opera della Corte dei Conti. tensioni in maggioranza a il Pescara Jets e le ire di Gaspari salta la delibera sugli scrutatori. Il mare inquinato tra i divieti di balneazione in apertura di stagione. E poi bilancio 2016 per la fondazione Pescara Abruzzo prima tra le fondazioni del meridione. Attivo e patrimonio consolidati Damiani e Mattoscio dichiarano risultati frutto di un'attività gestionale rigorosa. A Montesilvano il bilancio in aula Maragno trova i voti. Il documento di previsione torna in consiglio comunale. Il timore del tutti a casa ricompatta la maggioranza. Per il sindaco è solo una tregua. I nodi da sciogliere restano dissidenti pronti a riaprire lo scontro se non avranno risposte. 5 Stelle e Partito Democratico confermano un secco no come anche Montesilvano Democratica. E poi la stangata per la provincia risarcimento di un milione a 56 ex precari. Per la sanità Mancini dice potenziato all'ospedale di Penne il manager dell'Asler replica a Semproni sindaco vestino tanti reparti aggiunti al presidio di zona disagiata. Il preside diventa mobility manager corso del comune per dare la qualifica ai dirigenti scolastici. Tra gli obiettivi eliminare le auto in coda davanti agli istituti e l'assessore civitarese si propone di sviluppare una rete di mobilità sostenibile. Ci vuole un cambio culturale, dare risposte nel breve periodo ai problemi del traffico senza interventi strutturali. Il regalo a Fontanelle una lavagna high tech in nome di Sar Giacomo. E poi studenti in carrozzina alla Cerbo scoprono la vita ostacoli. L'iniziativa Claudio Ferrante rivela le difficoltà quotidiane di tanti disabili ma non si tratta di una malattia. L'Aquila e la centrodestra ritorna unito l'ultima volta 15 anni fa. Coalizione compatta con Pierluigi Biondi. È stato Perlusconi a salvare la città nel 2009. Pagano dichiara i sondaggi ci danno favoriti. Il Cavaliere mi ha telefonato a Pasquetta. Il candidato sindaco dice orgogliosi della nostra storia dobbiamo tornare a sorridere come negli anni settanta. Il caso ruba in casa di un romeno arrestato 28enne Aquilano. E poi depuratore di sassa aperte buste della gara la sise civica localizzazione dell'impianto in consiglio comunale tardiva polemica. Il palasport via i lavori dopo otto anni opere consegnate l'altro ieri alla ditta romana Spera si punta a rendere disponibile l'impianto il prossimo anno. L'assessore Capri ha dichiarato ospiterà pattenaggio, volley e basket. I primi interventi su tetto, spogliatoi e coibentazioni. La città si riappropria di un luogo importante. Vecchie glorie, la pista intitolata a Gildino De Felice, quale assessore comunale allo sport, propose il progetto della copertura. A campo imperatore senza la nuova seggiovia, la prossima stagione a rischio. Luigi Faccia di Save Gran Sasso dice in netto ritardo le autorizzazioni per la sostituzione delle fontari. Andiamo avanti, è stato licenziato in tronco, finisce in ospedale. Il caso alla Magneti Marelli, un malore per un capoturno di 53 anni. Ho dato tutto per l'azienda e mi cacciano per un danno irrisorio. La FIOM ha già annunciato lo sciopero, clima insopportabile. Il sindacalista dice piovono lettere di richiamo per motivi banali. L'uomo è svenuto per strada e poi è stato ricoverato, ma adesso sta meglio. Ad Avezzano, l'ex scuola di Borgo Agizia, ricostruita a tempo di record, il plesso, inaugurato ieri mattina un progetto all'avanguardia, un altro tassello per la sicurezza. A Chieti, il sindaco contro i ribelli di maggioranza, siete ingenui. certi atteggiamenti fanno solo bene all'opposizione. Forza Italia dice nessun attacco, noi, primo partito alle ultime elezioni. Aria di crisi nel centro-destra, la guerra fredda, colpi di post su Facebook e comunicati. La ASL e la scure dei tagli sulle assunzioni, solo 40, i nuovi posti. Il piano dell'azienda per stabilizzare 80 addetti dà di primio dure critiche all'atto aziendale, sono pronto a impugnarlo. E poi paura auto in fiamme, la seconda volta c'è l'ombra del dolo, fiamme nel cortile del palazzo e un'auto distrutta da fuoco e altre due danneggiate. Si allunga l'ombra del dolo sull'incendio che si è sviluppato in via molino allo scalo. Il killer pentito ma merita l'ergastolo. L'omicida piange a dirotto in carcere, mio Dio che ho fatto. L'avvocato chiede notizie sui figli e è apparso ancora fuori di sé. I familiari di Letizia uccisa, pugnalate, dicono vogliamo la pena massima. Oggi c'è l'addio alla primi terra nella chiesa del quartiere di San Giuseppe. Per la tragedia di Ortona il corteo funebre partirà da via fiume e i dettori delle vittime pronti a costituirsi parte civile. A Lanciano sul nuovo ospedale piovono altri 11 milioni. A parlare l'assessore regionale alla sanità Silvio Paolucci che dice la prima pietra non tarderà, ospichiamo entro la fine della legislatura. Teramo, Brucchi resta senza maggioranza e attacca. Dov'è la vostra dignità? Ad Alberto del Partito Democratico dice il secondo atto di sfiducia in dieci giorni. Il sindaco ora deve dimettersi. Campana e Micheli dicono il dialogo si può riaprire ma la giunta va azzerata. Il primo cittadino sbotta in aula. Non sono in vendita solo 15 consiglieri che restano dopo lo strappo. Per il maltempo smottamenti è stato chiuso il viadotto tra Civitella e Favale sopra il luogo tecnico su tutte le altre arterie costruite negli anni 50 e c'è l'ok al ponte sul Vomano. A Giulia Nova il sindaco ad Alfonso venga in comune Mastromauro contrariato dalla decisione annunciata dal governatore di venire a parlare dell'ospedale nella sede del Partito Democratico. Abbiamo invitato sia lui che Paolucci nelle sedi istituzionali compreso il consiglio straordinario ma nessuno si è presentato. Centrodestra Vasanella chiede un patto di lealtà tra i partiti. Ancora Giulia Nova la processione a rischio perché manca chi porta le croci. A Martinsicuro Vagnoni e Tommolini l'alleanza sorpresa. Nel centrodestra restano nel guado Fratelli d'Italia e Lega, Camaglioni e La Foglia, i rappresentanti del centro sinistra. Ora invece ci spostiamo sulle pagine del quotidiano La Città in apertura e il turismo. Abruzzo a picco nelle zone del terremoto la diminuzione degli arrivi è stata in media del 50% con punte che si avvicinano al 70%. Il messaggio le regioni del centro Italia sono sicure. Sottolinea nel messaggio letto durante la conferenza stampa il sottosegretario al turismo del MIBACT Dorina Bianchi e bisogna comunicarlo con un'azione collettiva, congiunta e forte. La controtendenza e i dati stridono con quelli delle grandi città dove le presenze invece sono cresciute del 6%. Il piano dell'ANAS in arrivo 474 milioni per le strade dei territori colpiti dal sisma. E poi il provvedimento tre anni di riduzione nelle bollette di luce e gas nei comuni del cratere. Dopo la sospensione per sei mesi del pagamento arriva un'altra agevolazione dall'autorità per l'energia. Crisi in comune all'ipogeo il sindaco va sotto con la maggioranza. Il consiglio approva i provvedimenti responsabili, poi viene sciolto per mancanza dei numeri per votare. Le tensioni nei momenti chiave dell'assise, gli interventi del sindaco contro la campagna acquisti di Falasca che spiega l'uscita dai Gattiani e di d'Alberto che invita il sindaco a dimettersi. E poi ci sono i numeri maggioranza 21 uscita dalle urne nel 2014. In quasi tre anni ha perso sei consiglieri passando a soli 15. E la palla passa a Brucchi che per ora resta in silenzio. Le conseguenze il sindaco non penserebbe a dimettersi ed è pronta l'ultima carta della responsabilità. La mozione di sfiducia in arrivo per Brucchi d'Alberto dice dovrebbe dimettersi altrimenti saremo noi a lavorarci. E poi c'è lo sfottomano, la di Pasquale si vendica, dice oggi chi è l'anatrazzoppa l'avversaria del sindaco, ripubblica la vignetta che tenne banco prima del ballottaggio. La casa dello studente, niente assist dalla regione, la sclocco, cofinanzia quella di Chieti Pescara, Teramo e L'Aquila a secco di fondi e a zoppate per il bando Miur. Poi l'assessore scloca ancora 7,6 milioni per le borse di studio e fondi agli ETS abruzzesi. Con le parco le polizie fai date dei residenti. Il comitato di quartiere chiede l'apertura del campo di calcetto e la sistemazione delle strade franate. Il traffico salta il, si alza il pilomat e compaiono i vigili e spariscono le macchine. Questo è per la ZTL del centro di Teramo. E poi l'emergenza maltempo, bandito l'avviso per chiedere i danni causati dalla nevicata. Andiamo avanti. La provincia, la truffa sui muli, è stato condannato il figlio dell'ex sindaco. Un anno e dieci mesi per Francesco Ciappanna. Assolti il padre Carlo e il dirigente comunale d'Anselmo. A Rocca Santa Maria la vicenda giudiziaria ruotava intorno alla realizzazione di un centro per l'allevamento e la produzione di muli nel territorio di Rocca Santa Maria. Una struttura finanziata con fondi europei ma mai trovata dalla squadra mobile di Teramo. Un allevamento fantasma è stata sospesa alla condanna per truffa e falso ideologico per Ciappanna Junior. La prescrizione per tutti e tre per il reato di abuso di ufficio. Un'ora di lavoro per la ricostruzione. Solidarietà degli operai del gruppo Carraro ai cittadini di Montorio al Vomano. A Isola del Gran Sasso il vivaglio della regione è riconsegnato ai cittadini di Pretara. Ancora su Montorio si può fare resta un movimento apartitico. Alcuni consiglieri e assessori del gruppo fanno chiarezza sul tesseramento del PD di alcuni esponenti di maggioranza. A Campli direzione Italia sbarca a Campli sotto la guida del giovane Columba. Tra le battaglie in programma le fototrappole contro i reati ambientali e la battaglia legale sul blackout di gennaio. A Civitella del Tronto cede il ponte tra Favale e Lucignano. Un operatore ecologico avvisa i soccorsi ed evita probabili incidenti. La strada comunale è stata interdetta al traffico in attesa di un sopralluogo tecnico. E poi a Martinsicuro il tradimento di Tommolini non va giù alla destra truentina. A Torano il bilancio sarà approvato già a mercoledì prossimo. Il sindaco di Giacinto sulla diffida del prefetto dice polemiche strumentali dell'opposizione. A Giulianova il sindaco non digerisce lo sgarro di D'Alfonso. Per Mastro Mauro è istituzionalmente scorretto accettare l'invito di Filipponi. La controproposta Mastro Mauro invita il governatore ad andare in consiglio lo stesso giorno dell'incontro con il partito democratico. Ancora sulla politica Vasanella prova a ricompattare il centrodestra. E poi le maioliche blu rivivono grazie alle nuove luci a San Flaviano anche quest'anno torna all'iniziativa di Italia Nostra sostenuta da Fondazione Tercas. A Roseto degli Abruzzi il patto dei veleni mai dato l'ok all'accordo con Amo Roseto. Tommaso Ginobile rompe il silenzio e dice al ballottaggio non avevamo bisogno dell'aiuto di Sottanelli. Un punto di rottura i margini di un accordo sarebbero stati possibili se Abruzzo Civico avesse accettato di partecipare alle primarie. E poi Marco Verticelli dice non capisco a quale titolo e con quale ruolo politico parli delle questioni di Roseto. L'incontro gli studenti rosetani a lezione di volontariato appuntamento sabato nell'oratorio del centro Pia Marta in piazza Sacro Cuore. A Silvi la proposta di Silvi 2024 la riduzione dei compensi di giunta per realizzare un centro giovanile. A Roseto il nuovo porto entro la fine dell'anno il consiglio rosetano approva lo schema di convenzione con la provincia. E poi ancora su Roseto degli Abruzzi mobilità la regione garantisce i fondi per la pista ciclabile. Gli amministratori rosetani incontrano Paolucci per avere delle rassicurazioni. L'economia in città, il modello 730 ed ecco tutte le detrazioni possibili guida alle novità del 2017. Da ieri disponibile il sistema semplificato sul sito dell'Agenzia delle Entrate. La pagina della cultura Piccioli nel caso di un mondo rotto quattro anni fa moriva lo scrittore che con i suoi romanzi ha anticipato l'era globale. Apriamo la pagina dello sport con la Lega Pro. Il Teramo di Paolo Antonia sogna il gol che vale la salvezza. Intanto Ugolotti prova a disegnare un assetto più offensivo in vista di domenica. Probabile il ricorso al tridente d'attacco coperta corta. Al diavolo serve un sistema di gioco per provare a scardinare la difesa della maceratese. leader dello spogliatoio da Teramano dice vivo questa situazione in maniera diversa. La Serie D sarebbe un male per l'intera città e intanto domenica potrebbe rivedersi il modulo con tre attaccanti. Apriamo la pagina dello sport anche sul quotidiano Il Centro in apertura. La Serie A, il Pescara e a parlare l'ex Caprari. Via Malincuore voglio fare gol lunedì. Il bomber del Pescara ritroverà la Roma in cui è cresciuto. è cresciuto in giallo rosso. Abbandonato, sì, ma è storia passata. Oggi sono felice così. E poi l'Inter e Totti, dispiace lasciare, sono stato bene. Il capitano, eccezionale. La curiosità, il cuore diviso a metà e ecco il Roma Club Pescara. Il cardiologo De Blasio dice ogni uomo ama due donne, la mamma e la moglie. Il presidente Vernamonte dice non mi vergogno, tifo per entrambe le squadre. Lunedì dalla Capitale attesi 3.500 spettatori, ma ci sono seguaci di Totti e soci anche in Abruzzo. Gruppi giallorossi, ad Avezzano, Carzoli, Vasto, San Salvo e anche Celano. E allora a parlare, ascoltiamo proprio l'ex Caprari. È una partita come le altre, sicuramente. Come ho detto già in precedenza, è la società che mi ha cresciuto. Quindi è una partita magari un po' diversa, ma emozioni zero. Avevi segnato nella gara d'andata. Quel gol non era bastato, però, per evitare la sconfitta. Se dovessi segnare lunedì sera all'Adriatico, esulterai oppure no? Sì, come già ho detto all'andata, esultavo, l'ho fatto. E se esulto lunedì esulto. C'è qualche sassolina dalla scarpa che ti vuoi togliere? No, no, nulla. Loro hanno fatto le loro scelte. Se sono qui e comunque sono un giocatore dell'Inter, devo solo ringraziare loro che magari mi hanno lasciato libero. È una partita, tra l'altro, che vedrà diversi ex. Nel Pescara, tu, Zeman, Verre, Crescensi. Cercherete comunque di fare uno sgambetto. Proverete quantomeno a fare uno sgambetto alla Roma? Sicuramente come ogni partita proveremo a fare il massimo. Magari per noi è uno stimolo in più, visto che comunque ci siamo cresciuti, ma non siamo rimasti lì. Sulla carta è una partita quasi proibitiva per voi, però giocherete ormai con la mente sgombra, perché c'è poco da chiedere al campionato, se non quello di chiudere la stagione in maniera dignitosa. Sì, sicuramente è una partita difficile, ma abbiamo dimostrato magari nelle ultime partite, come con il Milan e magari con la Juve, di poterci stare, magari con un pizzico di più di attenzione, riusciremo a fare qualcosa di positivo. Sicuramente lo conoscete il mister e penso che si sa, è un'attore che comunque lavora molto sulla corsa i primi giorni e devo dire che in queste settimane si sta vedendo anche sul campo, corriamo molto di più rispetto a prima. Quale giocatore Gianluca Caprari toglierebbe la Roma di Spalletti per la gara di lunedì? Ne toglierei un bel po' da Nengolana, Diego e Salah, penso che sono i tre giocatori che fanno fare il salto di qualità alla Roma. E ora la Lega Pro, il Teramo, la volata del diavolo vista dai doppi ex. Vai Teramo adesso, prenditi la salvezza. Grilli e Orta spingono i biancorossi verso la gara verità contro la maceratese. L'ex portiere dice, la rosa non è da bassi fondi. L'attaccante dichiara appunto su Sansovini. E poi per l'Aquila il braccio di ferro con i dissidenti, il DG Aureli sui sei calciatori ammutinati. Nessuno li ha cacciati, società parte l'ESA. Ci spostiamo sulle pagine del messaggero, anche qui lo sport Pescara con Zeman Tornigrande, Gianluca Caprari è l'unico re educe dalla retrocessione del 2013. Due volte in A con il Delfino, anche ora guarda la classifica dal basso. Otto gol realizzati, ma stavolta non sono stati commessi gli sbagli del passato. All'inizio abbiamo raccolto meno di ciò che meritavamo. Sei anni di piene soddisfazioni con il Boemo, la garanzia per ripartire alla grande. E poi il notiziario stendardo verso il recupero per il match con la Roma. La Lega Pro, Ugolotti prova un Teramo a trazione anteriore, a macerata dentro Sansovini e Barbuti. Di Paolo Antonio dice da Teramano, vivo male questa situazione. E allora con lo sport come sempre noi concludiamo la nostra rassegna stampa. Prima di salutarci, ricordiamo che l'appuntamento con l'informazione del TG6 arriva nella prima edizione alle 14 e invece la rassegna stampa di mattino 6 torna domani mattina puntuale alle 7. Buona giornata. Buona giornata. Buona giornata. Grazie a tutti.